Sì, sì, ciao. Tu che mi stai guardando, perché arretri? Ehi, turista in viaggio? E dove fare questa escursione fantastica? Dai, cammina. Dammi il mio mezzo. I tuoi turisti. Cambiare la batteria, solo queste. Cambiare la batteria. Ciao. Cambiare la batteria. Dai, è oscura, mi dici che sono brutta, dai. Stacchiamo, stacchiamo.